good morning guys in questo video mi vedete con la mascherina perché sapete molto bene che in questo periodo è obbligo portarla ebbene si la dobbiamo portare per andare al lavoro per andare a fare la spesa delle commissioni camminare correre per andare in macchina per andare anche in moto da mettere sotto il casco è una costruzione a me dopo otto ore lavorative mi fa male qui è tra le orecchie però ragazzi ci tengo a dire una cosa è una legge rispettiamo questa legge se vi dicono di portare la mascherina portate la mascherina magari fate come me ogni tanto tiro giù respiro ripiglio fiato e la rimetto è una legge rispettiamola vedete questa ragazza bellissima qui dietro sullo schermo è un testimonial dell'azienda i ffm ovvero italian fashion face mask mi hanno contattato e mi hanno detto riccardo noi produciamo delle mascherine adatte al periodo che si sta passando ti fa di provarne una secondo me cosa risposto bravi certo i ffm italian fashion face mask me l'hanno mandata dicendomi riccardo siamo contenti di farti provare questo prodotto è una mascherina leggera lavabile quindi riutilizzabile e poi è traspirante ti permette anche di sentire un pochino più di fresco di stare meglio nonostante filtri bene mi hanno fatto scegliere il colore e io ho scelto ovviamente una mascherina di fondo nero con i dettagli arancioni per ora procediamo all'unboxing e proviamo questa mascherina in realtà l'ho già aperta pochi minuti fa prima di iniziare il video perché ero stracontento lo scotch intero l'ho già tagliato c'era lo scotch l'ho rotto io ok qui dentro troviamo la stessa ragazza ci spiegano quello che è il prodotto con tutte quante le sue caratteristiche e vedo che producono delle mascherine adatte al lavoro allo sport e anche una versione premium no me ne hanno mandate due ragazzi mi hanno mandato due mascherine fantastico scatola vuota ok fatto un po di casino e ora direi di aprire la bustina no che figata subito a fare il cambio a mascherina come le altre dotata di ferrettino qua parte rigida sopra mettere sul naso per farla bene aderire ho scelto un tema con le fiamme guardate che figata bella eh bellissimo dovremmo stare sempre nella mia tasca respiro veramente bene e rispetto questa mi sento un pochino più fresco sul loro sito nella sezione domande frequenti loro dicono che non sono mascherine che vengono vendute come presidio medico chirurgico e sono mascherine che si possono tranquillamente utilizzare in tutti quegli ambienti in cui non è richiesta una mascherina presidio medico chirurgico lo si può fare in maniera assai serena perché comunque sono appunto a norma la seconda mascherina che loro mi hanno mandato è di colore rosso andiamo a vederla italia fashion face mask è una mascherina facciale filtrante in tessuto a maglia vabbè questo si può anche intuire non sono presenti cuciture quindi questo fa sì che non ci siano punti che possono magari dar fastidio al viso materiale traspirante quindi va a ridurre l'umidità ed ecco quindi il vapore che dicevamo prima sugli occhiali poi questo prodotto non è classificato come dispositivo medico o dpi come appunto si diceva prima queste sono mascherine che vengono vendute in coppia a 26 euro spedizione incluse penso questo non lo saprei dire andiamo a vedere magari usciamo a vederlo vengono vendute a 26 euro con 3 euro di spedizione ora mi voglio mettere quella rossa d'ora un poi in tutti i miei video esterni dove è richiesta ad oggi la mascherina e fintanto che sarà richiesta la mascherina utilizzerò loro due poi in realtà utilizzerò più spesso lei anche perché come ben sapete il mio logo è nero e arancione questa è perfetta però lei ovviamente ogni tanto si vedrà nei miei video l'azienda mi ha fatto un secondo regalo che poi fondamentalmente non è un regalo per me ma è un regalo per voi mi hanno dato un codice sconto da poter inserire nel vostro carrello per poter acquistare queste mascherine per usufruire di questo codice sconto dovete fare una cosa estremamente semplice dovete aprire la descrizione di questo video proprio qui sotto vi incomparirà il link di questo sito e proprio sotto il codice sconto da andare a copiare e a porre alla fine del carrello al momento dell'acquisto abbandoniamo queste mascherine celesti anonime a favore di queste qui bellissime con le fiamme ora però voglio finire il video con la mascherina nera e arancione ora mi sento più me stesso desidero ringraziare ancora una volta la italian fashion face mask alias iffm per il loro bellissimo regalo di queste due mascherine saranno le mie compagne di qualsiasi viaggio o impegno giornaliero che avrò da qui finché le mascherine saranno d'obbligo vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare anche sulla campanina per rimanere sempre aggiornati ciao ragazzi